La famiglia di Giorgio Ascarelli, proprietaria di un'industria di tessuti, fondata a Napoli nel 1879, è sempre stata vicina al calcio. Il 25 agosto del 1926 cambia la denominazione dell'Inter Naples, anche se ufficialmente si indica il primo giorno del mese, e chiama Napoli l'unico club del centro-sud affiliato al direttorio di visioni superiori che gestiva i campionati. La maglia è azzurra come il mare e il cielo del Vesuvio. Lo stadio San Paolo è intitolato a Diego Armando Maradona, il capitano dei due scudetti e della coppiata con la Coppa Italia, della Coppa UEFA e della Supercoppa italiana.